Nuovo arrivo in Sardegna di Matteo Salvini, leader della Lega. Il vicepremiere ministro degli interni ha partecipato stamattina in prefettura a Cagliari al comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica convocato dal prefetto Romil Dadafuri alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e degli amministratori locali, a cominciare dal sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda. Salvini è nell'isola per un minitur elettorale per sostenere Cristian Solinas, candidato alla presidenza della regione per il centrodestra, ma anche di Daniela Noli, che è candidata alle supplettive del collegio denominale della Camera di Cagliari. Tra i temi dell'ordine del giorno della riunione è la situazione dell'ordine pubblico in Sardegna, ma anche quelli degli sbarchi di immigrati, in particolare di quelli provenienti dall'Algeria che rappresentano il problema principale per l'isola, sbarchi che sono in calo ma continuano. All'ordine del giorno anche la questione degli attentati degli amministratori locali che vedono questa piaga continuare senza che si riesca a porvi il rimedio. Ieri il presidente della regione, Francesco Pigliaru, alla luce anche degli ultimi episodi, aveva chiesto al ministro Salvini un maggior impegno dello Stato e il rispetto degli accordi sottoscritti con il governo Gentiloni. Il ministro degli interni ha assicurato un potenziamento degli organici e delle forze dell'ordine. Il leader leghista ha in programma ora tappe a Quartus Sant'Ele, Nauristano e Alghero.